Tutti coloro che vogliono essere amici di questo Santo, un Santo che non è solo nostro dei Salesiani, ma è di tutti, di tutta la Chiesa e di tutto il mondo, quindi è davvero con piacere che oggi ospitiamo, intervistato poi da Davide che vedrete entrare in scena, intervistiamo uno degli autori che ha scritto l'ultima biografia disponibile di Don Bosco, Renzo Agasso, si presenterà poi lui, uno degli autori perché è stata una scrittura a sei mani, di persone che credo che lui conosca anche bene, quindi poi dirà lui come mai questa impresa a conduzione familiare. Allora lo invito a venire qua insieme anche a Davide che condurrà l'intervista, un bel applauso, io non sottrago altro spazio e desidero davvero poter con voi condividere questo momento di approfondimento della nostra conoscenza di Don Bosco perché davvero ce ne è sempre da scoprire. Grazie a tutti e grazie ai presenti.